Nella prima fase, il dispositivo viene adattato alle dimensioni dei circuiti stampati. Ora la pellicola verrà srotolata. Adesso la pellicola può essere tagliata alla dimensione richiesta. Il sistema plug-in in schiuma viene ora munito di circuiti stampati. In particolare da questo circuito stampato si può vedere molto chiaramente che la forma o le dimensioni del circuito stampato non sono principalmente importanti. E alla fine il tutto viene semplicemente avvolto. Con questo abbiamo preparato un pacchetto di circa 20 circuiti stampati. Il tutto è stato confezionato in brevissimo tempo, è dimensionalmente stabile ed è ora pronto per essere trasportato. Il sistema può essere facilmente adattato a circuiti stampati di dimensioni diverse. Il sistema plug-in in schiuma adesso può essere munito del nuovo circuito stampato. Ora i circuiti stampati possono essere avvolti e quindi sistemati nel contenitore di trasporto. Il nostro sistema plug-in con l'imballaggio avvolgente è ideale anche per circuiti stampati più grandi. Con il sistema plug-in e l'imballaggio avvolgente possiamo imballare un'ampia varietà di formati di circuiti stampati in contenitori di trasporto standard. Grazie a tutti. Per disimballare il pacchetto viene posto nel dispositivo e la striscia adesiva viene semplicemente rimossa. Quindi i circuiti stampati possono essere rimossi. Con l'imballaggio avvolgente circuiti stampati di tutte le dimensioni possono essere imballati semplicemente e rapidamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.